C'era una volta chi dava anima e corpo al lavoro, trascurando la famiglia, trascurando il tempo libero e anche il giusto e meritato riposo. Poi è successo qualcosa, c'è chi dice la pandemia, chissà cos'altro. Fatto sta che qualcuno, molti per la verità, hanno scoperto che oltre al lavoro c'è altro, che è giusto prendersi il proprio tempo e i propri spazi perché la vita è anche un'altra cosa. Poi la scoperta dell'acqua calda, però poi quando i comportamenti diventano un trend, un fenomeno sociale, bisogna cominciare a farsi delle domande e cercare di capire meglio. Avvocato Cristiano Cominotto, gius lavorista, buongiorno. Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi. Benvenuto. Lo chiamano catkitting, cioè abbandono tranquillo, uscire un po' alla catichella. Di che si tratta? Poi vediamo anche cosa comporta e vedremo anche le ripercussioni nel mondo del lavoro. Si tratta di un fenomeno che è globale, non riguarda solo l'Italia, quindi questo è un fatto interessante, anzi devo dire che secondo me in Italia paradossalmente è anche interessata relativamente meno, ma poi vedremo perché di rispetto agli altri paesi. Ed è un fenomeno in cui le persone non lasciano il lavoro, ma decidono sempre più di lavorare meno per dare più spazio e propri interessi alla propria vita. Questo è una definizione semplice della circostanza. Quindi se prima mi impegnavo al massimo, davo il meglio, avevo ambizioni di salire di grado, adesso se divento invisibile è meglio, più o meno. Sì, un pochettino questo, in alcuni casi, quelli più estremi magari. Ma sì, ma un pochettino questo, dopodiché ti devo dire, la nostra cultura italiana, perché prima abbiamo detto che è un fenomeno globale, la nostra cultura italiana, su questo è un po' diversa dalla cultura di tanti altri paesi, perché se tu ci pensi, anche nei nostri film, nella nostra cultura, il lavoro è sempre stato inteso come un qualche cosa di negativo. Se tu pensi a Fantozzi, per esempio, è sempre un qualche cosa da subire. Per cui noi da sempre in Italia abbiamo un'immagine del lavoro che tutto sommato non è positiva, è una cosa che noi subiamo. E quindi in questo senso, forse, essendo un qualche cosa che subiamo, questo nuovo fenomeno ha molto a che fare col fatto che tutto sommato noi abbiamo sempre inteso la vita in un'altra direzione. In altri paesi, per esempio, i paesi anglosassoni, Stati Uniti, Inghilterra, il lavoro è un qualche cosa che è strettamente legato proprio all'individuo. Tanto è vero, guarda, io me ne rendo conto, lavorando molto con l'estero, che la persona all'estero viene molto identificata con quello che fa, no? Per cui, cioè, quando tu sei all'estero, ciao, come ti chiami, che cosa fai, no? Che cosa fai? Esatto, qua in Italia invece è tutto molto più sfumato, però questo ti dà già un po' il senso della nostra cultura rispetto alla loro. Però qui il cat-kitting arriva dopo quella prima fase in cui ci furono quelle dimissioni di massa, no? L'Istat parla di 8 milioni di persone. Dopo la pandemia, dopo un anno di smart working, sembrava che nessuno più volesse tornare a essere e a fare, soprattutto, quello che faceva prima. Molti hanno abbandonato, no? Perché non veniva accordato loro lo smart working. Ma secondo te davvero sono cambiate le priorità esistenziali delle persone? O stanno cambiando? O hanno preso quella direzione lì? No, guarda, allora, in parte sì, in parte sì, e sicuramente il Covid ha aiutato, perché a un certo punto il Covid ci ha detto che il lavoro non era l'unica cosa che noi avevamo, no? Per esempio, di nuovo, anche qua, quando si parla di cultura, se parleremo di cultura italiana, è chiaro che la cultura di Milano è diversa dalla cultura di altre città, no? Io sono milanese, per cui sono Milano, una città dove, per esempio, il lavoro è veramente una parte fortissima, no? Della cultura della città. E noi, per esempio, milanesi siamo sempre stati abituati a considerare il lavoro come la parte principale della nostra vita, e non abbiamo mai vissuto il lavoro come una cosa negativa, cioè una cosa che comunque ci ha dato la possibilità sempre di esprimerci, di fare un certo tipo di vita, networking, eventi e tutto quanto. Però io mi ricordo con il Covid, per esempio, a un certo punto mi hanno detto, no, guarda, tutto quello che era le tue sicurezze non sono, perché il lavoro non è un qualche cosa di così fondamentale nella tua vita. E' chiaro, poi, quando stai chiuso per un anno in casa, tre mesi, quello che è stato, ti rimane. Quindi sicuramente il Covid è servito a farci cambiare proprio prospettiva. Dopodiché, devo dirti la verità, è anche vero, io l'ho sempre detto, per me questa generazione è molto, le nuove generazioni sono molto meno numerose delle vecchie, quindi che se ne dica, molta gente dice che per i giovani è più difficile, più difficile, secondo me non è vero, sono molto sincero. Era più difficile per noi che eravamo molto più numerosi ed è la ragione per cui oggi si fa fatica a trovare posti di lavoro, i giovani sono molto più disinteressati a trovare posti di lavoro, perché sanno che sono in meno e quindi probabilmente le occasioni sono anche di più.